Signor Batacchi, dopo tutto quello che è successo quella notte, l'evasione pianificata da mesi, la fuga roccambolesca, la sparatoria in centro, tre forze di polizia alle calcagna, dopo tanti anni, che cosa non funzionò quel giorno? Vede dottore, quella sera andò tutto storto, tutto, dovevo prenotare per il concerto di Maroccolo, ma andò tutto storto, tutto storto, tutto storto, tutto storto. Grazie a tutti.